Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del nostro notiziario è dedicata al censimento sull'amianto, avviato al Comune di Gela con l'obiettivo di avere un quadro chiaro della situazione finalizzato al corretto smaltimento per la salvaguardia della salute dei cittadini, dai rischi provenienti dall'esposizione all'amianto, l'approfondimento in questo servizio. Per venire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. E' il primo obiettivo del piano comunale amianto finalizzato a fotografare la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare fonte di diffusione di fibre, posto che è necessario salvaguardare la salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, come previsto dalla legge regionale numero 10 del 2014. Il vice sindaco del Comune di Gela fa il punto della situazione sull'avviso pubblicato dal Comune di Gela proprio sulla questione amianto. Abbiamo avviato la procedura per la redazione del piano amianto e il primo passo era proprio il censimento ufficiale di tutte le aree in cui sono presenti delle discariche o manufatti, impianti, parti di impianti in amianto. Il censimento significa coinvolgimento delle imprese che hanno ancora delle parti in amianto, le aree pubbliche di competenza dell'amministrazione comunale o comunque degli enti pubblici e sicuramente le aree private, quindi dei cittadini che possono avere ancora dei contenitori di acqua in amianto o dei manufatti in amianto. Quindi questo avviso che è stato pubblicato serve per consentire al cittadino, che ovviamente ne ha l'obbligo, come prevede la legge regionale, di autodichiarare l'amianto in possesso e nel caso in cui fosse friabile o in condizione di dover essere smaltito per evitare problemi sulla salute, di adempiere a quello che prevede la legge, cioè di adempiere ai passi per la rimozione. C'è un modulo da scaricare sul sito del comune o comunque affisso all'albopretorio, basta compilarlo, presentarlo via pecco o comunque agli uffici comunali competenti per appunto autodenunciare la presenza di amianto. Potrà anche rivolgersi il cittadino che non è in grado da solo di capire come funziona la procedura per lo smaltimento, rivolgersi ai vostri uffici per maggiori chiarimenti al di là del modulo? Sicuramente diciamo gli uffici sono già stati predisposti per poter dare le informazioni del caso e quindi dare tutto il supporto necessario. E' prevista dal 20 al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza del camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Ci si potrà presentare anche senza specifico invito, l'esame infatti verrà effettuato ugualmente. Contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon. L'iniziativa è dell'ASP2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta. Ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'ASP. Non si placano le polemiche relative al piano di mobilità urbana a Gela. I nuovi sensi di marcia hanno sollevato critiche che vengono raccolte anche dai consiglieri comunali che si fanno portavoce delle stesse. Era già accaduto ma oggi è la volta del consigliere comunale del Partito Democratico Enzo Cirignotta che in primo luogo chiede al primo cittadino Domenico Messinese un confronto affinché le istanze dei cittadini vengano ascoltate. Sentiamo. Consigliere, lei ha ricevuto diverse lamentele da parte di cittadini e di soggetti che hanno delle attività che insistono sul lungomare. Quali sono le lamentele più importanti e quali le proposte alternative? Diciamo che il senso unico sul lungomare, in particolar modo il tratto che va da Via Mattiotti fino alla Collido Conchiglia presenta due criticità importanti. Uno che riguarda i residenti che si devono espostare dalla zona est verso la zona ovest della città per raggiungere in particolar modo Machitella e dopo le attività commerciali che insistono in particolar modo nel tratto che va dalla Capitaneria di Porto alla Conchiglia che negli ultimi settimane hanno subito una sensibile riduzione dell'utenza e quindi degli incassi. È chiaro che dobbiamo raccogliere la mentele, io quello che voglio dire è un invito che rivolgo al sindaco, che il confronto è il stare della democrazia. Quando si prendono delle decisioni bisogna ascoltare la città, non è semplice ascoltare la città, però bisogna ascoltarla, sederci attorno a un tavolo e trovare una soluzione quando più condivisa possibile. Consigliere, è vero che ogni questione è una questione importante, ma non ritiene che occuparsi per settimane di un senso unico di marcia sia un po' un paradosso in una città che ha un'economia veramente allo stremo e la città è in ginocchio da diversi punti di vista, ricordiamo la vertenza Gela, ma mille altre cose. Un problema di viabilità complessiva, c'è anche qualche criticità che fa riferimento al tratto che costeggia la villa comunale. Io quello che dico al sindaco è che ci sono le critiche ma anche le proposte. Una proposta che voglio fare è quella di riaprire, ripristinare i vecchi sensi di marcia, quando meno nel tratto del lungomare che va dalla Conchiglia alla Capitaneria di Porto. Sulla viabilità ci sarà una riunione che sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, Dottore Sacia, e come Partito Democratico la prossima settimana nell'incontro con il direttivo e il gruppo consigliare prepareremo una mozione sulla viabilità della città. Cosa contiene questa mozione consigliere? Critiche ma anche delle proposte costruttive per cercare di venire incontro all'esigenza dei concittadini e dei commercianti. Il regolamento sulla raccolta differenziata chiesto dai funzionari della Regione slitta al prossimo lunedì. La decisione di rinviare alla prossima settimana è arrivata al termine di una lunga discussione in Consiglio Comunale. Si è preferito che il dirigente del settore potesse analizzare dettagliatamente i contenuti del maxi emendamento presentato dalle tre commissioni comunali, bilancio ambienti e affari generali. Nell'emendamento si dà centralità soprattutto al rafforzamento dei sistemi premiali in favore di quelle famiglie che differenziano correttamente. Inoltre si prevedono anche isole ecologiche nelle quali conferire. E di emergenza rifiuti si parlerà questa sera nella puntata speciale edizione estate di Agora. Sentiamo qualche anticipazione. Prosegue il ciclo di speciali estivi di Agora. Questa sera il noto rotocalco settimanale di Canale 10, ideato e condotto da Franco Gallo, torna in onda per affrontare temi che riguardano come sempre la città di Gela. E siccome in questi giorni è tornata a scoppiare l'emergenza rifiuti in città, ecco che Agora non poteva non accendere i suoi riflettori su questa ennesima piaga che tormenta le calde giornate estive dei cittadini gelesi. Con ospiti in studio tra i quali il consigliere comunale presidente della Commissione Ambiente e Sanità Virginia Farruggia che proprio ieri ha diramato un duro documento sull'emergenza spazzatura in città. Sarà presente anche il vice sindaco e assessore al ramo Simone Siciliano e altri ospiti ancora. Appuntamento dunque a questa sera a partire dalle ore 21 con una nuova interessante puntata speciale edizione estate di Agora. Si conclude oggi il triduo in onore della Madonna del Monte del Carmelo venerata nell'omonima parrocchia di Gela. Il triduo è predicato da Don Luca Crapanzano, direttore del centro diocesiano, vocazioni e vice rettore del seminario vescovile di Piazza Armerina. Alle 17.30 ci sarà il canto della tradizionale coroncina mariana e la celebrazione eucaristica animata dai vari gruppi presenti in parrocchia. Domani giorno della festa oltre la celebrazione eucaristica con la benedizione dei bambini che inizierà alle 10.30. È prevista in Piazza Roma la solenne celebrazione eucaristica con la partecipazione degli ammalati e dell'unità alzi. La festa si concluderà con la breve processione dell'antico simulacro della Madonna e i fuochi d'artificio. Torna la prossima settimana la regata velica a Gela. L'importante evento sportivo è organizzato dal club nautico. Abbiamo incontrato gli organizzatori. Vediamo. Anche quest'anno, come è stato fatto negli ultimi 10 anni a questa parte, il nostro club privilegia molto la vela, anche perché ha ricevuto moltissime soddisfazioni. Nella regata che si svolgerà il 23 e il 24 saranno presenti circa 80 equipaggi provenienti da tutta la Sicilia. Stiamo parlando praticamente di 300-350 persone che vengono qui a Gela, che occuperanno stanze d'abbergo, di bed and breakfast, che andranno nei ristoranti. Quindi è un incentivo veramente importante. Speriamo che presto potremo avere anche il nostro porto per evitare di andare a fare alcune regate nei porti vicini e così perdere delle attrazioni turistiche maggiori. Quest'anno abbiamo una nuova sezione che è la sezione surf, che già sta incominciando a prendere piede tra i ragazzi e che sicuramente ci darà ulteriore soddisfazione. Anche quest'anno ho il piacere di presentare la prima prova della Coppa Sicilia, una regata prestigiosa che praticamente riescono ad organizzare solo i circoli più importanti della Sicilia. Questa è la prima prova, le altre tre prove si disputeranno tra Marsala, il circolo velico di Marsala, il circolo canottieri di Marsala e il NIC di Catania. Anche quest'anno avremo i migliori timonieri della Sicilia, ma mi piace ricordare i nostri timonieri, cioè i timonieri del Club Nautico Gela, tra cui primeggia chiaramente Andrea Marotta nella categoria Juniores e Giuseppe Liardo nella categoria Cadetti. Stiamo raccogliendo i frutti di un grande lavoro che è iniziato da tanto tempo. La vela al nostro Club Nautico è diventata veramente una realtà e le soddisfazioni di questi giovanissimi, di Juniores e di affermazioni che su tutti i campi di regata si sono sempre più imposti. oggi c'è un vivaio che abbiamo sempre coltivato e sempre di più alla fine comincia il lavoro che parte tutto da lì, dallo sforzo e l'impegno che si è messo per raggiungere tali obiettivi. Ad agosto c'è la partecipazione del Club Nautico Gela con l'imbarcazione Extra 1 alla Palermo Montecanto edizione 2016. Buona parte dell'equipaggio è fatto di giovani del Club Nautico Gela e quindi questo sempre di più conferma che la vela, il Club Nautico Gela è diventata una conferma nella realtà per il nostro territorio. La ladra di ricordi di Barbara Bellomo è il libro che sarà presentato oggi in occasione del quinto incontro dei venerdì letterari presso l'Eschilo Lab. Dialogherà con l'autrice Marco Trainito. L'evento è organizzato dalla libreria Mondadori di Gela in collaborazione con l'assessorato comunale alla cultura. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Nell'ambito del percorso formativo Anche Tu Puoi Salvare Una Vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia coordinata da Orazio Coccomini organizza un corso di formazione come esecutore BLSD. La formazione si svolgerà sabato 30 luglio prossimo con inizio alle 9 presso l'aula di formazione della sede operativa di Via Falcone incontra da Brucazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio. Gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare il numero di telefono 0933 914419, c'è anche un indirizzo di posta elettronica giubbeditalia.com oppure una pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela. E nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione si terrà il corso di formazione di primo e secondo livello rivolte ai volontari delle associazioni aderenti al coordinamento regionale sanità. L'evento è organizzato da Pubblica Assistenza Procivis, protezione civile di Gela in collaborazione con l'assessorata alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di Via Ossidiana numero 23. Gli interessati possono inviare il proprio nominativo e la propria adesione entrano oltre mercoledì 20 luglio all'indirizzo di posta elettronica p.a.procivis.it, sede dell'ufficio del coordinamento provinciale di Caltanissetta presso la Procivis. Al corso possono partecipare tutti i soggetti che hanno già compiuto la maggiore età. Tre giorni di spiritualità e profonda devozione a San Cataldo per la presenza dello scapolare di San Giovanni Paolo II. La visita è stata curata dall'associazione San Giovanni Paolo II con il suo presidente onorario, sua eccellenza Monsignor Mario Russotto e il presidente Gaetano Alù. Lo scopo della nostra associazione è quello di celebrare la figura del Santo Padre tramite l'organizzazione di convegni, seminari, incontri ma anche pellegrinaggi. Normalmente abbiamo due incontri fissi in un anno, uno è la domenica dopo Pasqua dedicata alla Divina Misericordia, l'altro è il 22 di ottobre. Perché questi incontri fissi ogni anno? Perché la Divina Misericordia è stata una festa istituita dal Santo Padre e il 22 di ottobre la Chiesa ricorda la memoria liturgica del nostro amato Papa. Quindi in questi due giorni abbiamo da sempre organizzato dei convegni per parlare del pontificato del Papa, dei miracoli che ha fatto il Papa. Quindi tutti, come dicevo prima, finalizzati a celebrare la figura di questo grande Papa. Accoglieremo la reliquia dello scapolare di San Giovanni Paolo II che ha indossato per tutta la vita e che non ha tolto mai neanche quando ha avuto l'intervento e per questo anche si è macchiato di sangue. È un segno di protezione e di predirezione, un segno con il quale si vuole incamminarci nel cammino della santità. Lo scapolare è stato accolto nella Chiesa Madre di San Cataldo con un grande applauso da parte dei fedeli guidati da Don Biagio Biancheri. Subito dopo la Santa Messa preseduta dal carmelitano padre Lucio Zappatore, la reliquia è stata portata in processione verso la Chiesa di Sant'Antonio Abate. La visita arriva al suo momento conclusivo dopo un programma fitto di appuntamenti lunedì mattina con la Santa Messa nella cappella del Collegio di Maria. È importante perché fa vedere la grande devozione che San Giovanni Paolo II aveva per Maria, questi tutti lo sapevano, ma in particolare per la Madonna del Carmine. Lui ha dichiarato che da quando era bambino portava sempre lo scapolare della Madonna del Carmine. Sotto l'abito bianco il Papa portava lo scapolare. Quando gli spararono lo scapolare rimase insanguinato. E allora il Papa anche entrando in sala operatoria chiese di non togliergli lo scapolare. Per lui era l'attaccamento, la devozione, l'amore filiale verso Maria. L'amministrazione comunale in concomitanza con la stagione estiva ha concordato l'istituzione di tre corse nuove di bus per collegare il centro urbano a Manfria. Ogni domenica e nei festivi, oltre al servizio già attivo, per i feriali. Da Gela verso Manfria le partenze sono previste dalla stazione centrale, che è il Capolinea. Alle 8, alle 13 e 30, alle 18 e 30. Le corse di ritorno invece sono fissate da Piana Marina. Alle 8 e 45, 14 e 15, 19 e 15. Siamo allo sport. Il Macchitella Gela presenta alla città il nuovo anno calcistico che sta per cominciare. Sono state illustrate le linee programmatiche dell'anno in corso. e i nuovi obiettivi invece che il sodalizio e bianco-rossa ha individuato come prioritari per il perseguimento degli scopi dell'associazione stessa. C'eravamo anche noi, sentiamo. Abbiamo ritenuto opportuno fare la rinuncia all'iscrizione al campionato di promozione e quindi concentrare tutte le nostre energie, sia in termini di tempo che di risorse umane che di risorse economiche, nella costruzione di un viveio giovanile che deve diventare sempre di più riferimento a livello regionale e nazionale. Presenteremo nel corso delle prossime settimane il nuovo organico del settore giovanile. Si punterà a creare una scuola calcio anche all'interno delle scuole. Si punterà ad ampliare e a rafforzare il rapporto di affilazione con la nostra società principale che è quella del Trapani Calcio. Praticamente quello che faremo per quello che riguarda i nostri giocatori che si sono dimostrati splendidi in tutti questi anni, perché lo ricordiamo noi siamo l'unica società a livello regionale che partecipava ai campionati senza nessun tipo di rimborso, verranno tutti svincolati e quindi saranno liberi di poter andare ovunque riterranno opportuno. Per quello che riguarda gli under invece alcuni di questi andranno in prova nelle società, nelle formazioni giovanili del Trapani Calcio, mentre per altri ragazzi stiamo trattando la cessione, il trasferimento a titolo temporaneo in alcune squadre di Serie D. Il Machitella in questi anni ha dato un messaggio importante alla città perché nel 2010, quando la nostra realtà è nata, abbiamo dato un grosso impulso in quanto il calcio praticamente era in decadenza. Abbiamo un po' dato, se così si può dire, un messaggio culturale alla città di Gela che ha riscoperto la voglia di calcio. Oggi in un contesto completamente cambiato dove comunque abbiamo una prima squadra che è il Gela Calcio che farà il campionato di Serie D, un contesto anche di squadre minori abbastanza rinfoltito. Sentiamo l'esigenza di lavorare sul settore giovanile in quanto per esempio nella provincia di Caltanissetta non esistono scuole calcio elite e il prodotto locale gelese si è dimostrato negli anni un prodotto abbastanza scadente. Quindi vogliamo, non perché non ci siano talenti, anzi il contrario, però ovviamente questi talenti dei nostri ragazzi hanno bisogno di strutture e di organizzazioni adeguate alla loro crescita ed è lì che noi vogliamo puntare e lo faremo alla grande come abbiamo sempre fatto. L'associazione sportiva dilettantistica a Mogela organizza il primo memory all'Emanuele Giuseppe Alabisso. La competizione si terrà presso la struttura sportiva di Viale Enrico Mattei. Il torneo è organizzato appunto dalla Mogela, una società che è stata preseduta da Giuseppe Alabisso fino alla tragica scomparsa del novembre scorso e in cui è cresciuto lo stesso figlio Emanuele che ha militato nella categoria della società della scuola calcio e del settore giovanile. Il memorial si concluderà ad agosto. Siamo allo spettacolo La Divina Commedia e lo spettacolo di Giobe Covatta che andrà in scena sabato 30 luglio prossima alle 21.30 al Teatro Antidoto di Gela. La manifestazione rientra nel cartellone estivo dell'Arena all'aperto e il biglietto costerà 10 euro. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui e aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.